In questo video andremo a visionare come scaricare ed installare SQL Server Develop Edition che è una versione di studio per poter imparare a utilizzare SQL Server. È una versione completa, quindi abbiamo praticamente tutte le features che ha la versione Enterprise che costa un botto di soldi. Questa versione è scaricabile ed installabile, ma non è utilizzabile ai fini commerciali. Quindi se siete un'azienda non potete scaricare questa versione e stare tranquilli perché vi serve comunque una licenza, quindi dovreste comunque andare ad acquistare un SQL se volete lavorare su questa tecnologia. Ma per studiare è decisamente la migliore edizione che possiamo andare ad installare nel nostro PC. Sapete che esiste anche la SQL Server Express, che è una versione gratuita, molto limitata rispetto alla Developer Edition, perché vi permette di fare database di 10 GB al massimo di spazio e 1 GB di RAM per l'esecuzione di query. Quindi se accessi vi sta un po' stretto potete installare SQL Server Express e è libero da licenza. Quindi potete usarlo anche lavorativamente parlando. Però rimangono tante features che invece sulla Developer sono disponibili. Quindi se poi aziendalmente volete usare una versione di SQL, sicuramente è una buona idea andare ad acquistare almeno un SQL Server standard. Allora, come arriviamo a questa interfaccia di installazione? Andiamo in Google e qui andiamo semplicemente a scrivere SQL Server Develop. Qui andiamo a cliccare praticamente sul primo link, SQL Server Downloads, e qui ci porta su questa pagina qua. Che vi dice se volete andare ad acquistare un SQL, quindi in Azure, o con altre opzioni. Quello che a noi interessa sta sotto e qui troviamo la SQL Server Express, quella gratuita e limitante, ma che potete scaricare e utilizzare come vi pare. E la Developer, quindi andate qui e fate Download. Nel momento in cui avrete premuto su Download, si scaricherà questo file. Quindi avviando questo file, verrà avviata praticamente l'installazione. Qui ci dice cosa vogliamo fare come installazione. Allora io vado direttamente su Scarica file multimediale, quindi vado a scaricare il file installante. schiaccio qui, lo metto praticamente sul percorso dove voglio installarlo. Io in questo caso ho scaricato il file ISO. Faccio scarica e lui quando ha fatto scarica che cosa fa? Mi crea praticamente questo file ISO da 1,3 GB più o meno. Se andiamo a vedere pesa più o meno 1,3 GB, quindi non ci state neanche tanto a scaricarlo. Dopo che abbiamo scaricato l'ISO possiamo andare a fare l'installazione del SQL Server Develop all'interno del nostro PC partendo da un file locale, quindi senza utilizzare internet. Lo apriamo e facciamo per sicurezza, facciamo tasto destro, esegui come amministratore e diamo sì sulla pagina che compare. Così andremo ad avviare l'installazione di SQL Server in modalità amministrativa così siamo sicuri che si installerà bene, è importante questa cosa qua. Allora qui c'è un po' di documentazione, quindi andiamo direttamente sul passaggio installazione e qui abbiamo un po' di informazioni. Andiamo semplicemente a fare nuova installazione autonoma di SQL Server o aggiunta di funzionalità a un'installazione esistente. Andiamo qui, schiacciamo e lui inizia a lavorare. Adesso lo facciamo passo passo così vedete proprio tutto il processo di installazione che se nascono sorprese o ci sono problemi li vediamo e li gestiamo insieme. Ok, siamo arrivati a questo punto. Che cosa vogliamo andare ad installare? Allora, qui dobbiamo fare tutti questi passaggi per andare ad installare il SQL. Ma c'è tutta una cosa che potete tranquillamente andare a leggere. Allora, specifica un'edizione gratuita, vedete, usa la fatturazione come pagamento in base al consumo tramite MacroStage se vogliamo fare altre installazioni, quindi magari abbiamo il key, eccetera. Qui noi andiamo a fare quella gratuita e possiamo scegliere quella di valutazione, la develop o l'express e noi andiamo tranquillamente con la develop. Andiamo avanti. Ovviamente non c'è nessun costo. Andiamo qui, accettiamo il contratto di licenza, ovviamente non fa mai male andare a leggerlo. Usa Microsoft Update per verificare la disponibilità di aggiornamenti, quindi se arriveranno giù aggiornamenti nel nostro SQL, Microsoft Update, oltre ad aggiornare il nostro Windows 11 o qualsiasi versione abbiate, andrà ad aggiornare anche il SQL, quindi è consigliabile andare a flegare questa opzione, così saremo sempre aggiornati con l'ultima release. Perfetto, una volta fatta sta cosa, lui va giù e inizia ad installare. Qui mi dà un avviso sul firewall, andiamo a vedere cosa dice. La genera firewall ha generato un avviso. Windows Fireware è abilitato. Per abilitare l'accesso remoto, assicurarsi che le porte appropriate siano aperte. Ok, qui mi dice che poi se devo accedere a questo SQL con un altro computer nella mia rete, devo aprire le porte, altrimenti potrei avere dei problemi. Però se lo utilizziamo per studio, probabilmente a noi basterà utilizzarlo sul nostro PC, quindi non dovremmo andare a fare una configurazione internet, quindi su più PC, a meno che non dobbiamo fare sperimentazioni di quel tipo. Quindi possiamo ignorare questo errore e andiamo a vedere il passaggio successivo. Qui dobbiamo andare a dire estensione di Azure per SQL. Per installare l'estensione di Azure per SQL serve specificare l'account Azure. Allora, vediamo un pochino qua. Allora, qua dice non voglio l'estensione per Azure, quindi andiamo a togliere questa cosa qua. Non voglio installare niente che sia in cloud, vogliamo solo la nostra developer, quindi togliamo questo flag e andiamo avanti. Quindi andiamo avanti anche qui, senza andare a flaggare nulla. Sono presenti errori di convalida di questa pagina. C'è l'erro ok per chiudere la finestra di dialogo, esaminare gli errori. Allora, vediamo qua. Per continuare, selezioniamo la funzionalità da installare. Allora, ci siamo dimenticati qualcosina. Servizi, motori e database, scusate. Machine learning. Allora, queste sono tutte cose che possiamo andare ad aggiungere anche in seguito. Quindi direi che installiamo il motore. Le estensioni non le installiamo. Analysis service non lo installiamo. Funzionalità condivise. Integration service. Tutte queste cose qua non le installiamo. Quindi ci basta il motore. Andiamo qui e facciamo avanti. Qui è il percorso dove lui andrà ad installarlo. Se non vi va bene il disco C, perché non avete spazio, potete usare anche un altro disco. Andiamo avanti. Perfetto. Abbiamo selezionato solo il motore. Andiamo qui e andiamo avanti. Andiamo avanti. Qui andiamo a dire modalità di autentificazione, quella di Windows. Quindi possiamo accedere con Windows oppure mettere la modalità mista, autentificazione di SQL Server e autentificazione di Windows. Con questo flag qui, andare a creare utenti locali di SQL ma accedere anche col mio account Windows. Quindi proviamo a mettere questo. Poi mettiamo un, due, tre, quattro. Dopo eventualmente gliela cambiamo. Aggiungi utente corrente. Ok. Abbiamo aggiunto l'utente. E qui potremo andare a selezionare qualche altro utente che può essere amministratore. Quindi mi sono messo dentro io, così sono amministratore della macchina. Ne andiamo qui e andiamo avanti. Ok. Qua ci fa il riepilogo. Adesso li vado ad installare. Ok. Ha installato il motore. SQL Browser. Webto SQL. File di supporto per l'installazione. Perfetto. Tutto riuscito. Se avete fatto tutto corretto e vi da tutti i pallini rossi e verdi, vuol dire che abbiamo fatto l'installazione nel modo corretto. Chiudiamo. Quindi ora abbiamo installato il database. Andiamo a installare il software che ci permetterà di connettersi al database e avere una console di controllo. Schiacciamo su installa strumenti di gestione di SQL Server. Qui ci porta a scaricare lo strumento, sicuramente. Quindi scaricare Management Studio. Scarichiamo l'ultima versione. Quindi ci porta direttamente nel sito. Aspettiamo il download. Perfetto. E qui lo andiamo ad avviare. Quindi usate sempre il pannellino che vi porta sempre alla pagina più aggiornata. Anche qua andrà a installarlo nel G. E facciamo install. Così si installerà, date sì, alla finestrella che compare. E lui adesso andrà ad installare il tool che ci permetterà di connetterci al database. Questo tool lo potete installare in qualsiasi macchina, ma non è necessario che nella macchina ci sia un database SQL installato. È proprio il tool di connessione. Quindi se nel mio pc locale c'è il database di SQL, poi se voglio collegarmi da un'altra macchina, basterà installare questo software. Oppure potete installare altri tool se preferite, altri software per collegarvi al database. Ad esempio c'è Dbiver che va per la maggiore oltre al micro SQL server. Management Studio. Quindi ci sono diversi tool che ci permettono di collegarci. Io di solito utilizzo questo qui che va più che bene. Ok, installazione terminata. Andiamo a vedere il software se è veramente presente. Andiamo qua giù, scriviamo Management Studio. Eccolo qua che raccompasso. SQL Server Management Studio 20. Quindi io ho questa versione, poi dipende da quando l'ho scaricato insomma. Cliccando qua andrà ad avviarsi la console del Management Studio. Mettiamo un attimino ed eccoci qua. Ok, lui ci rileverà direttamente il nome del server, che è praticamente il nome della nostra macchina. Quando fate Connect, se vi dà errore che non si connette, probabilmente è perché avete appena terminato l'installazione. Quindi eventualmente aspettate 5 minuti e poi riprovate. Se ancora non dovesse funzionare, qui va benissimo tutto quello che ha messo. Andiamo sulla freccetta, andiamo a Browse for More. E qui andiamo sul più, così qui andremo a selezionare il nostro database. Vedete che sul più lui poi vede tutto quello che c'è nel nostro computer. E questo è il nostro database. Quindi eventualmente selezioniamo questo, diamo l'ok. Così lui lo reinserisce e diamo Connect. Qui compare questo messaggio. Allora qui possiamo tranquillamente dare Yes. Ok. E ecco che ci siamo connessi. Se siete interessati all'agent, anche questo ci sarà un approfondimento più avanti. Ma in ogni caso bisogna andare ad attivarlo. Quindi se andiamo ad esempio sul pannello di controllo, così lo vediamo subito, attiviamo tutto quanto. Strumenti di Windows. Qui dobbiamo cercare Servizi. E qui praticamente vediamo tutti i servizi che sono installati, database compreso. Qui andiamo a scorrere, 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 finché troviamo SQL Server. Andiamo a cercare il SQL Server più giù. Eccolo qua. Quindi se vedete, il SQL Server è in esecuzione. L'agent no. È spento. È manuale. Quindi se io vado ad avviare questo servizio, potrei metterlo in automatico. Così quando avvio Windows, anche l'agent viene avviato. Oppure potrei fare avvia. Allora in questo caso lui va ad avviare il servizio. L'ho fatto manualmente, quindi andrà solo. Se io l'ho fatto manualmente, se riavvio sarà di nuovo spento. Vedete che adesso qui è diventato verde. Quindi possiamo andare ad utilizzare anche l'agent che è praticamente quello che ci permette di creare i job e le schedulazioni. Così abbiamo attivato tutto. Ricordo che ovviamente basterà metterlo in automatico. Salviamo. E poi ogni volta che si riavvia Windows, l'agent sarà disponibile al nostro utilizzo. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Lasciate un bel pollizione in su se è stato il vostro gradimento. Lasciatemi anche un commento così magari mi aiutate a piazzare meglio il video all'interno della piattaforma. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Invece se volete darmi un bel sostegno o volete sostenermi in modo incisivo, pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che sta sotto al video. Così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao.